Accolta l'istanza cautelare di Teramo e Campobasso da parte del Tar del Lazio, le due squadre provano a giocare una partita che tuttavia ha poche possibilità di essere ribaltata. Con la domanda cautelare le due società hanno chiesto al presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di disporre misure cautelari provvisorie prima della trattazione della domanda da parte del Collegio. La discussione ci sarà il prossimo 2 agosto, ma quella di ieri è una decisione che mira ad una tutela del ricorrente accolta al solo fine di mantenere la res ad ucch'integra, ovvero essendo la questione non ancora compromessa o decisa, affinché in tale sede non venga pregiudicata la posizione della ricorrente nell'emore della decisione collegiale sulla domanda cautelare. Insomma, per farla breve una sorta di time out prima della ripresa delle ostilità, nel frattempo oggi è in programma il Consiglio federale che tuttavia aspetterà le decisioni del Tribunale Amministrativo prima di procedere ai ripescaggi, che in ogni caso non saranno decretati nella giornata di oggi e comunque non lo sarebbero stati in qualunque altra circostanza. Il presidente federale Gravina chiarirà chi avrà diritto all'eventuale ripescaggio, con Fermana e Torres che sono in vantaggio sulle altre, in caso di esclusione di Teramo e Campobasso, ma si aspetteranno gli eventi prima di andare a sostituire. La Lega Pro ha rinviato la data di presentazione dei calendari, inizialmente prevista per il 2 agosto, al 5, quando si avrà maggiore contezza del futuro di Teramo e Campobasso, escluse dagli organi di giustizia sportiva. Decisione che dunque terrà conto dell'esito della discussione di martedì. In gioco infatti ci sarebbe l'eventuale annullamento delle norme federali che hanno portato all'esclusione e decisione confermata dal Consiglio federale e dal Collegio di Garanzia del Conipoi. La strada è tortuosa a dir poco. L'obiettivo è l'annullamento del dispositivo del 18 luglio e delle motivazioni pubblicate con la decisione numero 52 del 25 luglio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, poi del parere contrario espresso dalla Covizoc nella riunione del 7 luglio, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del manuale delle licenze nazionali, nella parte in cui non consentono depositi e integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno da parte di Covizoc e del Consiglio federale FIGC, nonché di tutte le norme federali nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un club al campionato di riferimento quando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal sistema delle licenze nazionali stesso. Che la partita sia complicata, giocabile ma complicata, è facile da intuirsi. Che il Teramo però voglia provarci fino alla fine è altrettanto evidente.